L'utilizzo che una certa frangia di persone di Salerno fanno del molo. Quest'anno cercheremo di far fruire liberamente degli spazi elioterapici a chi ne volesse far uso, però non consentiremo la cattiva abitudine di fare il bagno nell'ambito portuale sia perché io non riesco veramente a capire quale sia la bellezza di fare il bagno dentro un porto per le cui acque sono sicuramente non balneabili proprio per definizione e poi anche perché c'è un rischio concreto per la propria incolumità perché con le barche in manovra questo tipo di attività è assolutamente di assoluto problema.